Siamo oggi qui all'Isola della Salute della Quinta Municipalità organizzata con il Distretto Sanitario Territoriale. È molto importante mettere al centro il tema della prevenzione, quindi oggi è un'occasione per i cittadini e le cittadine per incontrare vari esperti professionisti in materia sanitaria. È un'importante iniziativa promossa dalla Quinta Municipalità con i patrocini del Comune di Napoli. Ha l'obiettivo di far conoscere anche le eccellenze della sanità della città di Napoli, ma soprattutto di intercettare tutte quelle persone che fuoriescono dalla filiera sanitaria e cercare di andare incontro a quelle che sono le fragilità, ovvero la povertà sanitaria che incombe purtroppo e dilaga anche nel nostro territorio.